E a questo punto chiamerei Pietro Gori. Ringrazio tutti anche per essere rimasti nei tempi. Pietro Gori l'abbiamo sentito nominare più volte stamattina. Pietro Gori è borsista postdoc a Lisbona. Abbiamo sentito già che è membro del Nietzsche International Lab. Studioso di Nietzsche ma non solo perché si occupa anche delle fonti scientifiche del pensiero nicciano. Quindi ha interessi che vanno anche nella direzione della scienza. E quindi è uno dei nostri cavalli di battaglia con grande gioia di Paolo Diorio di quella che si chiama interdisciplinarietà. Non ce lo giochiamo molto. Filosofia, scienza, ce lo teniamo caro. Anche lui è autore di diverse pubblicazioni su Nietzsche. L'ultimo volume è Il pragmatismo di Nietzsche che è uscito giusto nel 2016 con Mimesis. Ma mi piace ricordare anche una nuova edizione curata da Pietro Gori e da Chiara Piazzesi del Crepuscolo degli Idoli con un commento che è uscito nel 2012 per Carocci. Quindi lascio la parola a Pietro e ringrazio anche lui di essere qua. Grazie Cristina e ringrazio anche tutti gli organizzatori per avermi invitato a questo tavolo a cui mi sento molto onorato di sedere. Ringrazio molto per l'occasione. Io, come mi è stato invitato di fare dagli organizzatori, presenterò in maniera forse in alcuni punti anche autopromozionale alcuni aspetti della mia ricerca che sono stati legati all'attività editoriale e ad alcuni spunti e alcuni elementi di Mazzino Montinari mi sono permesso di presentarlo in questa veste un pochino più moderna diciamo ma semplicemente che è comunque un motivo in più per rendergli omaggio e per attualizzare la sua attività di ricerca. Il riferimento, per chi non l'avesse colto, è a una serie televisiva molto recente tra l'altro che adotta molti spunti sciopeno-erani e nicciani all'inizio una serie molto interessante e comunque ecco, io vi spiegherò perché vedo in Mazzino Montinari una sorta di vero e proprio detective. Il motivo di eredità che io sento di ricevere da Mazzino Montinari è quel citato già più volte extratesto di cui abbiamo parlato appunto quello che anche Giuliano Campioni riporta nella nota postuma nella nota finale a che cosa ha detto Nietzsche meno male che non ha sentito che ho detto nota postuma perché se no in cui parla dell'extratesto che entra nella genesi del testo ed è talora più rilevante di ciò che si coglie nell'ambito puramente testuale ambito della tradizione documentata questo è un inedito di Montinari che viene riportato in quella nota. Ora, questo riferimento della ricerca, questo spunto della ricerca mi è stato fondamentale per le due ricerche che ho intrapreso sulle fonti scientifiche del pensiero di Nietzsche che erano dedicate rispettivamente al pensiero di Boscovic e al pensiero di Mach perché in entrambi i casi io mi sono trovato all'inizio in una situazione diciamo di impasse nel senso che andando a vedere semplicemente in quello strumento eccezionale offertoci da Paolo Diorio che è Nietzsche Sourz una ricerca testuale su Boscovic ci restituisce solo otto occorrenze di cui una sola in un'opera pubblicata e mi è andata mi è andata ancora peggio quando decisi di spiegare in questo senso percorrendo all'opposto la domanda che cosa aveva Nietzsche sul tavolo mentre scriveva mi sono domandato perché Nietzsche aveva sul tavolo meglio in biblioteca il testo di Ernst Mach i Beiträge sull'analisi di Ernst Findugen il penultimo che trovate e poi anche un altro piccolo testo di ricerca scientifica di Mach e in questo caso appunto la ricerca su Mach ci dà una sola occorrenza che tra l'altro è semplicemente un elenco di persone a cui Nietzsche vuole mandare la sua genealogia della morale c'è poi negli apparati dell'opera un riferimento a un'opera di Mach ma ecco senza Montinari senza il riferimento alla metodologia di ricerca che mi è stata ovviamente trasmessa da Giuliano Campioni non avrei potuto portare avanti una ricerca che poi si è rivelata per diversi aspetti fertile e tornerei quindi a quei riferimenti montinariani Montinari scrive riporto sempre dalla nota di Campioni la lettura di Nietzsche conduce fuori del testo il testo vive solo se vi è un fuori del testo che deve essere conosciuto e col quale esso si cimenta testo sono anche le grosse marginali il testo è semplicemente la lettura senza grosse il testo è parte di una realtà più vasta ma soprattutto l'interpretazione non è possibile solo all'interno del testo ed è questo un punto su cui vorrei soffermarmi brevemente ma che mi sta particolarmente a cuore per mostrare quella che per me è la vera ridevanza del tipo di ricerca impostata da Montinari che non è una ricerca in cui la filologia si sostituisce all'interpretazione quindi in cui la filologia si sostituisce alla filologia alla filosofia ma è una ricerca in cui la filosofia parte da una ricerca filosofica si muove al di fuori del testo perché non può ridursi a una interpretazione che rimanga ferma nel testo ed è proprio la filologia che si concentra sul testo a spingere l'interpretazione fuori dal testo a spingere gli interpreti a guardare a cosa c'è fuori che appunto è quell'insieme di letture ma anche in senso più ampio quel panorama culturale all'interno del quale Nietzsche in particolare è inserito ma questo vale non solo per Nietzsche come avrò modo poi di dimostrare e vi mostro vi leggo alcuni altri spunti da una conferenza di Montinari pronunciata nel 1985 per la quale ringrazio Giuliano Campioni di avermi concesso di mostrarla il testo infatti appartiene nella biblioteca privata di Giuliano Campioni e in questa conferenza Montinari si riferisce al pensiero di Gianfranco Contini e scrive la filologia riapre il testo chiuso e statico e lo fa aperto e dinamico lo ripropone nel tempo questa riapertura avviene in due dimensioni in due direzioni dopo il testo e prima del testo scorro leggermente sotto la direzione opposta cioè quella dopo il testo in cui si offre lo studio del testo nel tempo è quella della sua elaborazione il testo come dato immobile viene ribaltato e non tanto perché esso è il frutto di una lunga pazienza quanto perché il testo si rappresenta come prodotto di un'infinitudine elaborativa di cui il testo fissato è solo una sezione e spaccato il filologo rappresenta fisicamente la genesi testuale di un capolavoro eccetera eccetera questo è un riferimento che probabilmente molto di voi conoscete ed è importante per capire quale fosse l'obiettivo dell'edizione ma quello che mi è piaciuto molto di questa conferenza è quello che Montinari scrive dopo parlando della scientificità del procedimento dell'edizione la scientificità del procedimento dell'edizione sta paradossalmente non tanto nella designazione del conosciuto quanto in quella del non conosciuto è non conoscibile per me l'edizione ciò si riflette nella diversità edizione e interpretazione del testo rispetto al lettore per discutere un'interpretazione è necessario conoscere il testo una volta dato il testo il lettore interpreta e combattono per così dire ad armi pari l'editore invece interpreta qualcosa che il lettore rimane in linea di principio precluso anche la più audace interpretazione del testo sa di non sostituire la lettura dell'originale e che la lettura dell'originale serve di controllo al lettore ecco questo lo trovo un aspetto molto interessante proprio per discutere del rapporto di cui ha parlato anche Giovavu precedentemente tra appunto gli studi filosofici su Nietzsche e la filologia che appunto spesso viene considerata come punto fermo ma anche punto di conclusione di una ricerca che invece a mio avviso manifesta la sua fertilità proprio in un dialogo con la interpretazione e per sottolineare questo aspetto vi mostro due esempi con i quali mi sono cimentato personalmente il primo riguarda uno studio del famigerato frammento 760 dell'86 87 quello in cui Nietzsche parla di prospettivismo e in cui compare la appunto famigerata frase dicotomia tra fatti e interpretazioni uno studio filosofico e filologico improntato alla metodologia di Montinari ci restituisce un quadro più o meno di questo tipo in cui il frammento in questione viene ad essere un vero e proprio nodo teoretico prima di tutto di una serie di questioni non solo di una serie di questioni che Nietzsche tratta in altre opere e in altre note ma anche in connessione ad un contesto culturale più ampio e quindi ci riporta per esempio ad Aldià del Meno e del Male 108 al Crebuscolo degli Idoli all'Anticristo o in basso a sinistra alla Gaia Scienza ma ci rimanda anche al contesto culturale del fenomenalismo tutti elementi collegati tra vari temi specifici che compaiono all'interno del frammento e che permettono come risultato di operare una vera e propria lettura e interpretativa della dicotomia tra fatte e interpretazioni che corregge diciamo una serie di derive fantasiose che sono state presentate negli anni e arricchisce non limita il valore dell'interpretazione ma arricchisce un'interpretazione di quella stessa dicotomia e già vedendo un po' questo quadro capite perché ho pensato di adottare la metafora del detective metafora del detective che è evidenziata ancora di più in un altro tipo di ricerca che ho svolto con un collega italiano che abita a Lisbona su una possibile connessione del pensiero di Nietzsche e alcuni spunti filosofici di Pessoa una ricerca che sarà pubblicata presto su Pessoa Plural e al termine della quale io e il mio collega Antonio Gardiello ci siamo permessi di suggerire alla gruppi di ricerca su Pessoa proprio la metodologia adottata da Montinari perché lo studio dell'extratetto risulta fondamentale anche negli studi su Pessoa Pessoa ha notevoli elementi di connessione non solo direttamente col pensiero di Nietzsche ma anche c'è tutta una ricerca sulle fonti sui postumi ci sono molte carte ancora da rivedere quindi ci ritroviamo molto tra studiosi Nietziani e studiosi Pessoiani e il quadro che ci siamo trovati e questo è il motivo per cui mi è venuto in mente questo esempio della metafora investigativa e il quadro che ci siamo trovati di fronte nel momento in cui siamo andati a investigare le concezioni del soggetto di Nietzsche e Pessoa era sostanzialmente questo qua cioè siamo riusciti a collegare Nietzsche e Pessoa attraverso Fai Hinger che è il personaggio che sta in mezzo letto da Mead che venne letto poi da Pessoa insomma questo tipo di investigazione che è un'investigazione veramente poliziesca in un certo senso ci ha permesso di dare un senso ad una riflessione teoretica che era suggerita da molti perché la connessione tra le somiglianze tra il concetto di soggettività di Nietzsche e di Pessoa vengono suggerite da molti ma per la quale ci voleva un lavoro appunto filologico di questo tipo che guardasse all'extra testo e non solo al testo fisso e fissato e per poter essere perché se ne potesse rendere conto concludo quindi ribadendo quella che è la mia posizione rispetto al lavoro di Montinari e lasciando insomma la metafora per un discorso più serio Montinari ci ha fornito con questo discorso sul rapporto tra testo e tra testo secondo me un grandioso strumento di investigazione uno strumento che mi è capitato di riflettere da poco con il collega Stefano Bussellato che appunto purtroppo non ha potuto partecipare e che in un certo senso forse faceva paura allo stesso Colli nel momento in cui appunto si leggono dei carteggi in cui Colli dice ma stiamo un po' attenti questa non vorrei che questa cosa limitasse magari libertà interpretative proprio perché c'erano due approcci diversi che all'epoca si confrontavano comunque ecco torno a dire il grandioso strumento che Montinari ci ha messo a disposizione credo che sia stato fino adesso sicuramente ben recepito e utilizzato e mi auspico insomma come diceva anche Cristina che sarà continuato ad essere utilizzato proprio per una sinergia tra prospettive di ricerca storiche e filosofiche grazie 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 a Pietro Corio che ci ha fatto toccare direi con mano il brutto fatto di cui ci occupiamo così volentieri con così tanta grande passione purtroppo andiamo un po' veloci perché la mattinata è volata e chiamerei a questo punto l'ultimo intervento della mattinata last but not least come si suol dire Diego Sanchez Meca Diego Sanchez Meca che ringraziamo